Il 28 marzo 2020 Siamo sulla spiaggia di Jolly Beach, questa è la spiaggia più frequentata di Antigua, non c'è nessuno, tutto chiuso. La spiaggia di Jolly Beach, questa è la spiaggia più frequentata di Antigua, non c'è nessuno. Nessuno in spiaggia, nessuno in mare, veramente un mortoglio, isolati nell'isola. Non c'è nessuno in spiaggia, nessuno in spiaggia, nessuno in spiaggia. Non c'è nessuno in spiaggia, nessuno in spiaggia, nessuno in spiaggia. Non c'è nessuno in spiaggia, nessuno in spiaggia, nessuno in spiaggia. Non c'è nessuno in spiaggia, nessuno in spiaggia. Non c'è nessuno in spiaggia, nessuno in spiaggia.